Universo Donna tra passato e futuro è il titolo della mostra nella sala espositiva dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale del Piemonte. L'allestimento, curato dalla Compagnia Artisti e Autori, è costituito da 24 opere d'arte varia, dal figurativo all'astratto, sul variegato mondo femminile. 12 di esse verranno giudicate da un'apposita commissione e le migliori premiate sempre all'URP, mercoledì 13 settembre. La mostra, visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30, rimane aperta fino al 13 settembre. Questo è un progetto che nasce da lontano, viene da lontano, dal 2011. È nato nella Circoscrizione 5 che ci ha dato un grandissimo supporto e si è sviluppato poi nell'ambito del Canavese e sempre presso la Circoscrizione 5, il Teatro Isabella, con la realizzazione di prima di tutto una mostra, addirittura con una clip che parte da Firenze che si chiama Universo Donna, realizzata da Angelo Pieroni, sul quale noi poi abbiamo costruito proprio questo progetto che è coinvolgere le persone, la gente, il pubblico in quello che è la prevenzione della violenza di genere e in genere, ampliandolo ogni anno con qualcosa di diverso, iniziando quindi con una mostra artistica, quindi quadri, sculture e quant'altro, aggiungendo poi man mano dei filmati, dei cortometraggi, dei libri, quindi tutto quello che poteva essere importante perché questa iniziativa arrivasse alle persone, al pubblico e si portasse quel bricciolo di conoscenza in più su quelle che potevano essere le opzioni per prevenire questi tipi di violenza.